eccomi eccomi sono qui eccomi che ti è chiuso no come chiuso io devo partire non hai sentito sì ho sentito ma io devo partire devo andare in svezia per l'eurovision l'eurovision sì cosa fai canti no a cantare ci pensa angelina mango io sono il presentatore presentatore sì da solo e si sai che mi è venuta un'idea 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 fantastica quale lo facciamo insieme mara maionchi e gabriele corsi conducono eurovision son contest il 7 il 9 e l'undici maggio su rai 1 rai 2 rai play e rai radio 2